Scelta della squadratura e disegno dello schema unifilare di bassa tensione. In questa lezione si mostrerà come procedere con DOC per il disegno dello schema unifilare in bassa tensione, utilizzando sia oggetti macro che oggetti singoli. Una volta definite le proprietà generali di impianto, DOC consente di definire la scelta della squadratura su cui disegnare lo schema unifilare. Per facilitare la scelta è disponibile un'anteprima di tutte le possibili soluzioni da scegliersi tra squadratura per disegno libero, su formati pagina A0, A1, A2, A3, un tipo di cartiglio che grazie alla sua flessibilità è consigliato per schemi personalizzati o particolarmente complicati, come nel caso di reti magliate. Oppure, squadratura per disegno a colonne, disponibile per impianti in bassa tensione o in media tensione, che presenta nella parte inferiore una griglia per l'inserimento dei dati e garantisce rapidità nella realizzazione del disegno. Infine, una squadratura particolarmente adatta alla rappresentazione di un fronte quadro. Ad ogni modo, dopo la scelta di qualsivoglia squadratura, l'icona Cambia squadratura, dimensioni pagina, nella barra degli strumenti, consente sempre ed in ogni momento di cambiare quanto selezionato. Per il disegno dello schema unifilare di bassa tensione, indipendente dal tipo di squadratura scelta, è possibile utilizzare sia gli oggetti macro che gli oggetti singoli, presenti selezionando bassa tensione nella barra flusso di lavoro. In particolare, gli oggetti singoli rappresentano ciascun singolo elemento dell'impianto, come l'UPS, il generatore, il cavo, l'interruttore magnetotermico differenziale o il carico generico. Viceversa, gli oggetti macro sono combinazioni già predisposte di più oggetti singoli, come un dispositivo di protezione, un cavo ed un carico in serie, e sono pronti per essere disegnati con un singolo clic, facilitando e velocizzando il disegno. Alcuni esempi di oggetti macro sono L'interruttore generale magnetotermico differenziale da utilizzare come primo livello nel disegno dell'impianto. La partenza motore con salvamotore solo magnetico e relè termico. La partenza per sottoquadro con interruttore magnetotermico differenziale. La partenza con magnetotermico e carico generico. La partenza con interruttore magnetotermico e gruppo di rifasamento. Così, per esempio, dopo aver inserito un interruttore generale magnetotermico, una prima partenza composta da interruttore magnetotermico, cavo e carico generico, può essere inserita con un singolo clic, prestando solamente attenzione ad agganciare l'oggetto alla barratura in uscita dall'interruttore generale. e ad inserirlo in corrispondenza del centro della colonna della griglia sottostante. Una volta inserito l'oggetto, un'apposita finestra di definizione rapida ne richiede i dati elettrici essenziali. Il numero di fasi ed il sistema di distribuzione, già predisposti con il tipo di sistema di distribuzione precedentemente impostato, ma che possono comunque essere variati. La descrizione dell'utenza, per esempio, utenza 1 L'assorbimento del carico, in termini di corrente e fattore di potenza. Il valore di default è di 16 A con COSFI 0,9, dati che è sempre possibile personalizzare secondo le necessità, digitando, per esempio, 550 A, oppure, in termini di potenza attiva e ancora fattore di potenza. La lunghezza del cavo, qui il valore di default è 10 metri. E il tipo di cavo è di isolamento. Dock provvede quindi a stirare le connessioni in modo da occupare tutto lo spazio disponibile in verticale nel foglio di lavoro. Una seconda partenza può essere inserita utilizzando invece gli oggetti singoli, e nello specifico l'interruttore magnetotermico, e qui è possibile scrivere Utenza 2 Una semplice connessione per rispettare la simmetria con la partenza precedente. Il cavo Il carico generico Si ricordi sempre di non inserire due oggetti dello stesso tipo, per esempio due interruttori, nella stessa colonna, in quanto la griglia non sarebbe in grado di ospitare i dati di entrambi. Bene, in questa lezione si è appreso come scegliere la quadratura e disegnare lo schema unifilare in bassa tensione, utilizzando sia oggetti macro che oggetti singoli. Grazie per l'attenzione.